salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di sicurezza domestica e lo facciamo con questo kit l'home sensor kit t e z viz è un kit uno starter kit per iniziare a rendere sicura la nostra abitazione perché vi parlo di sicurezza domestica perché comunque sempre più importante essere tranquilli nella nostra abitazione e quello è sicuramente fuori discussione e questo kit ci aiuta proprio in questo soprattutto ci aiuta in maniera super semplice e soprattutto senza essere minimamente invasivo nella nostra abitazione in questo kit troviamo l'indispensabile per iniziare poi potremmo comunque aggiungere e aumentare quello che sono i sistemi di sicurezza che vorremmo mettere in base alla quantità che ne vogliamo avere nella nostra abitazione ma prima di parlare nel dettaglio di questo prodotto guardiamo cosa troviamo all'interno della confezione abbiamo un hub di controllo con presa ethernet nel caso volessimo non utilizzare wifi e un unico tasto centrale dopodiché troviamo un piccolo pulsante che potrà fare varie funzioni troviamo un sensore di movimento veramente molto 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 piccolo guardate quanto è piccolo fra le mie mani troviamo la base d'appoggio magnetica per fissare il sensore su delle pareti o su delle superfici qualsiasi dove possiamo utilizzare anche il biadesivo troviamo la prima parte del sensore di apertura di porte e finestre e questo è il secondo componente delle aperture porte e finestre poi troviamo il manuale di istruzioni dove abbiamo anche la lingua italiana abbiamo un sacchetto dove all'interno troviamo un cappuccio in silicone un cavo usb micro usb per alimentare lab poi abbiamo sbagliati supporti di ricambio sia magnetici che biadesivo ed infine abbiamo l'alimentatore per alimentare il nostro hub ed ecco qua questo è tutto quello che abbiamo all'interno della confezione partiamo da questo che il cervello che praticamente quello che farà funzionare tutto il nostro sistema home security ed è praticamente un hub molto molto compatto dove andremo a collegare tutti questi dispositivi praticamente in maniera super semplice tramite l'applicazione e zviz disponibile sia per us che per android che è l'applicazione che già utilizziamo con le telecamere e zviz andremo ad associare innanzitutto lui come vedete appunto qua in sovraimpressione con il classico sistema e zviz dove andiamo a leggere il qr code che troviamo sul dispositivo e seguendo le istruzioni che troviamo poi nella schermata dell'applicazione che ci permette veramente in pochi minuti di associare un dispositivo una volta associato lui che è il cervello come abbiamo detto di tutto il sistema security home di zviz andremo ad associare a lui quindi avremo nella schermata lui come prodotto appunto associato all'applicazione entrando poi nella sua interfaccia andremo ad associare quello che sono i sistemi di sicurezza quindi avremo i sensori di movimento veramente piccolissimi perché se io vado a rimuovere quello che è il supporto di fissaggio guardate quanto è piccolo il sensore guardate rispetto alla mia mano impressionante lui si fissa magneticamente al suo supporto che poi potrà essere fissato sia magneticamente perché qua sotto è magnetico quindi lo potremmo fissare a una parete metallica o a un ripiano metallico oppure potremmo utilizzando il biadesivo che c'è qua sotto poi ne abbiamo come avete visto nella confezione anche di ricambio potremmo andare ad attaccarlo su un mobile su una porta su qualsiasi superficie noi volessimo andare comunque a fissare questo piccolissimo dispositivo e per questo che all'inizio vi dicevo che è veramente poco invasivo oltre che semplice da installare da far funzionare basta avere una rete wifi in casa e tutto funziona in maniera veramente fantastica poi nella confezione troviamo anche questo piccolo cappuccio in silicone che permette andandolo a posizionare qua sopra di andare a chiudere una parte del sensore quindi avremo un campo visivo del sensore minore e potremo andare a non inquadrare con il sensore una determinata area così che lui entri in funzione solo in quella piccolo spicchio che gli abbiamo creato per quanto riguarda il rilevamento di movimento mentre l'altra parte non rileverà niente quindi non farà scattare l'allarme poi sempre nella confezione troviamo questo che sono due pezzi perché sono abbinati uno all'altro che sono i sensori che potremmo installare su porte e finestre praticamente questi sono leggermente magnetici fra di loro andando a staccarsi faranno scattare l'allarme e poi come ultimo dispositivo abbiamo questo questo è un piccolo tasto infatti sentite che fa clac clac che ci permetterà di gestire il nostro sistema di allarme oltre che con l'applicazione lui ovviamente con questo clic ci permetterà di andare a disattivare l'allarme quando l'allarme sarà attivato e poi ci permetterà anche se volessimo di essere un pulsante di emergenza quindi andandolo a cliccare farà partire l'allarme ovviamente inviando le notifiche allo smartphone perché comunque tutti questi sistemi di sicurezza oltre che far uscire un suono anzi una voce in inglese che ci dirà intrusione quando questi sistemi vengono attivati ma ovviamente ci arriverà anche la notifica nello smartphone nostro o di un familiare a cui abbiamo dato la possibilità di ricevere le notifiche appunto del nostro sistema di allarme o anche delle videocamere e zviz che abbiamo installato qua sopra abbiamo un tasto che ovviamente oltre alla configurazione serve anche per andare a zettire l'allarme quando suona perché comunque lui lo potremmo mettere che ne so magari in camera sul comodino per esempio quindi quando suona lo sentiremo bene perché comunque ovviamente lui non è che abbia una sirena un allarme fortissimo però la voce emessa soprattutto nel silenzio della notte si sente tantissimo lui illumina un led rosso e questa voce ovviamente sicuramente se dovessimo averla sul comodino ci spaventerà tantissimo ma ci sveglierà anche appunto avvisandoci che c'è un'intrusione allora questi dispositivi tutti e tre sono da attivare ovviamente come abbiamo detto con l'applicazione tramite appunto l'interfaccia dove troviamo il nostro hub installato nell'applicazione zviz e però la cosa principale da fare è andare a rimuovere le pellicole che troviamo all'interno quindi questi prodotti come vedete adesso nel video vanno aperti e all'interno troviamo una piccola pellicola blu che è quella che non fa fare contatto alla batteria così che la batteria è completamente nuova non avete una batteria già consumata dal tempo in cui sono nella confezione quindi rimuoviamo le pellicole blu all'interno dei dispositivi andando ad aprirli e poi sotto il coperchio di questi dispositivi c'è un QR code andando a cliccare nell'applicazione andremo ad associare un nuovo sensore di allarme quindi andremo a inquadrare il QR code che troviamo sotto il coperchietto ma prima di fare questo dovremo andare a cliccare il piccolo tasto reset che c'è nei vari dispositivi tutti e tre dispositivi hanno un piccolo tasto reset ognuno in una posizione diversa comunque è spiegato bene nelle immagini dell'applicazione quindi inizieranno a lampeggiare di led blu piccolissimi all'interno dei nostri dispositivi una volta che questi led blu lampeggeranno e noi andremo a leggere il QR code andremo ad fare l'abbinamento dei dispositivi aspettiamo ovviamente che dispositivi vengano abbinati poi ci verrà chiesto se c'è un aggiornamento firmware da fare lo faremo perché è meglio sempre tenere tutti i dispositivi aggiornati quindi faremo un aggiornamento se ci verrà chiesto ed ecco che abbiamo associato i nostri dispositivi a questo punto abbiamo tutto pronto per fare funzionare il nostro sistema di allarme security home kit di EZViz perché vi dicevo all'inizio che uno starter kit perché comunque abbiamo un sensore abbiamo un pulsante di spegnimento dell'allarme o pulsante di emergenza e un sensore per porte e finestre ma poi è possibile acquistare separatamente i sensori o solo i sensori delle porte quindi tutti questi dispositivi sono acquistabili separatamente e acquistarne quante ne vogliamo noi in base a quello che è la nostra abitazione o le nostre necessità comunque qua sotto vi lascio tutti i link in descrizione per guardare quello che sono appunto i dispositivi questo kit costa circa 150 euro poi dopo sapete che il prezzo di amazon è sempre variabile ci fa magari applicare i coupon sconto nella pagina d'acquisto però indicativamente il suo prezzo è di circa 150 euro mentre i sensori variano non hanno un prezzo standard vi lascio qua sotto i link così vi date un'occhiata e valutate voi i vari prezzi dei sensori quindi una volta fatto tutto questo abbiamo i nostri dispositivi pronti dovremo solo andarli ad installare adesso vado ad accendere l'hub di controllo così poi li proviamo insieme e capite meglio cosa sono in grado di fare questi piccoli sensori e cosa l'hub ci dice quando scatta un allarme quindi adesso proviamo tutto questo insieme ed eccoci qua pronti per vedere in azione il sistema home kit security di ezviz allora la sopra alla finestra ho installato il sensore di apertura che possiamo mandare ad installarlo sia sulle porte che sulle finestre mentre da questa parte sul calorifero con attacco magnetico perché i miei caloriferi sono in metallo ho messo il sensore di movimento però come avete visto potrete andare ad installare questo sensore su qualsiasi piano perché comunque abbiamo la possibilità anche del biadesivo ovviamente adesso lui è girato che spara in una zona che non mi vede altrimenti continuerebbe a rilevarmi continuerebbe a far partire l'allarme quindi il nostro sistema di sicurezza è pronto qua ho il tasto per andare a spegnere che poi vi farò vedere come far diventare anche un tasto di emergenza mentre qua invece abbiamo l'hub cioè il cervello di tutto il sistema e zviz allora vedete che l'applicazione è già pronta perché voglio farvi vedere quante cose possiamo configurare di ogni dispositivo allora per quanto riguarda l'hub andando a cliccare in alto sull'ingranaggio abbiamo tutte queste impostazioni vedete molto semplici ma sono quelle essenziali per avere un sistema di allarme personalizzabile quindi andiamo in impostazioni allarme potremo regolare l'audio della voce della centralina quando appunto viene rilevato un movimento come sentiremo dopo possiamo andare a spegnere i led che sono accesi vedete sopra alla centralina e poi potremo andare a configurare ovviamente l'impostazione di rete le informazioni sul dispositivo dove potremo andare a mettere data e ora ovviamente quella attuale e poi potremo andare anche a vedere se c'è un aggiornamento firmware e tutte queste impostazioni poi possiamo entrare in quello che sono invece i dispositivi singolarmente quindi tipo potremo entrare nel sensore di movimento vedete che qua mi dà una lista cronologica di tutti i movimenti rilevati vado a cliccare sull'ingranaggio e posso configurare varie funzioni soprattutto potremmo andare a configurare una telecamera cioè potremmo andare ad associare al dispositivo una telecamera e zv se dovessimo averne già in casa le rileverà e i sistemi di allarme una volta azionati per un movimento per un'apertura andranno a comunicare con quella telecamera che gli abbiamo associato quindi la telecamera entrerà in funzione soprattutto se abbiamo quelle magari a 360 gradi con active tracker che andranno a cercare il movimento all'interno dell'abitazione però questo è un di più non sono indispensabili poi abbiamo impostazioni allarme qua abbiamo tutte le diciamo funzioni riguardante appunto l'allarme la cosa più importante ovviamente è l'avviso acustico dove possiamo andare a fare o meno sentire la voce dal nostro hub perché comunque potremo andare su questo dispositivo di allarme tipo in questo caso ovviamente il sensore di movimento non fare attivare la voce quindi la voce rimarrà silenziata ma ci arriveranno comunque le notifiche nello smartphone poi abbiamo una cosa importante ovviamente che piano di promemoria acustico qua andando ad attivare potremmo andare vedete aggiunge una fascia oraria andare ad attivare quello che è appunto l'allarme cosa vuol dire che l'allarme in una determinata fascia oraria un determinato giorno non sarà attivo quindi potremmo andare a ovviamente muoverci tranquillamente aprire finestre tutto quello che vogliamo in base a quello che abbiamo selezionato perché ogni dispositivo è configurabile singolarmente quindi non è che se configuriamo l'apertura della finestra o della porta di conseguenza va a influire anche sul sistema di rilevamento di movimento no sono indipendenti quindi potremmo andare a configurare che magari solo di notte solo di sera solo in certi orari cioè quello che è appunto la nostra necessità è la nostra appunto libertà di utilizzo poi abbiamo personalizzazione della voce per cambiare la voce a quello che l'audio che esce dal nostro dispositivo hub e poi la stessa cosa l'abbiamo anche nella notifica messaggio app dove possiamo andare a configurare vedete le notifiche anche qua potremmo andare a dirgli ore e giorni in cui vogliamo che ci venga notificato il movimento quindi è tutto molto molto personalizzabile tutte queste impostazioni le abbiamo anche poi dentro nel sensore per quanto riguarda l'apertura perché questo era il sensore di movimento se io vado dentro a quello di apertura vedete abbiamo subito anche qua le aperture degli allarmi fatti sulle porte o finestre e poi abbiamo le stesse configurazioni del dispositivo precedente quindi vedete che ogni dispositivo che andate ad aggiungere potrete andare a modificare e configurare singolarmente questo è sicuramente una cosa super super interessante e molto molto utile poi tornando indietro potremmo andare a configurare quello che è il pulsante come vi ho detto lui ha più funzioni quindi in questo caso è configurato per andare a spegnere l'allarme ma io posso andare a configurarlo anche per altre cose andando a selezionare nella schermata principale doppio tocco ok posso andare ad aggiungere un'azione l'azione potrebbe essere selezionare il dispositivo a3 e fare avvertimento acustico quindi un allarme vado a selezionare sì adesso lui dice che ha aggiunto una nuova funzione vado a fare salva ed ho in salvato anche questa impostazione poi andando a togliere la spunta blu potremmo andare a disattivare o meno quella funzione in maniera semplice quindi non andandola a eliminare ma andandola solo a disattivare e poi potremo aggiungere un'altra funzione collegata alla pressione del tasto lunga ma tutte queste cose ognuno può decidere se farle o meno o averne solo una quindi se io adesso vado a selezionare con doppio clic questo tasto vedete che lui il lab ci dice intrusion questo solo una volta perché nelle impostazioni se io vado a vedere ho selezionato che venga ripetuto una volta sola adesso vi faccio vedere vedete play os praticamente una volta sola posso andare a selezionare 10 secondi quindi lui farà la stessa cosa mi dirà la stessa frase detta prima però continuamente ripetuta per 10 secondi quindi io a questo punto da fare il doppio clic vedete per 10 secondi lui continua a suonare però ho attivato il clic quindi con un clic solo disattivo questo allarme ma anche tutti i sensori quindi con un clic disattivo l'allarme con due clic e metto un'emergenza quindi notifiche che arrivano nei vari smartphone e soprattutto vado a creare comunque un suono di emergenza e di avviso ma a questo punto non ci resta che provare i sensori che abbiamo installato quindi vado ad aprire la finestra ed ecco che parte l'allarme vedete che lampeggia di rosso il led dell'hub questa è la voce non è al massimo del volume perché ho aperto la finestra quindi posso disattivare cliccando il tasto sopra all'hub o usando il mio telecomandino a clic che posso scegliere quindi posso spegnerlo così o potevo spegnerlo cliccando il tasto sopra all'hub quindi vado a richiudere la finestra adesso invece proviamo il sensore di movimento quindi vado a girarlo e proviamo a muoverci ok adesso io mi sposto e arrivo nel suo campo visivo vedete che diventa blu ha lampeggiato una volta di blu qua ricomincia con intrusione e lampeggia di arancio posso spegnerlo come abbiamo visto con il suo telecomandino clic o cliccando sulla base di controllo quindi posso scegliere cosa andare ad attivare ovviamente adesso durante ogni movimento mi uscirà la notifica perché comunque una fase importante anche la notifica quindi vedete che se io apro la finestra in un attimo arriva anche la notifica nello smartphone mi riavvicino ed ecco che lui subito mi ha rilevato è partito l'allarme e la notifica è arrivata nello smartphone vado ad interrompere quindi ragazzi avete visto quanto è semplice far funzionare quanto è possibile configurare in maniera super personalizzata questo dispositivo e zviz veramente super semplice per avere un'efficienza e una sicurezza domestica di altissimo livello con una spesa che uno può fare gradualmente aggiungendo componenti gradatamente e soprattutto poco invasivo perché vedete che tutto è piccolissimo tutto è applicabile in ogni posizione in maniera semplice col biadesivo o magneticamente e poi si mimetizzano veramente questi sensori come se non ci fossero che lo rendono veramente un home kit security secondo me è davvero molto molto interessante adesso continua a partire l'allarme perché il sensore mi rileva quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato questo sistema di sicurezza e zviz vi è piaciuto l'avete trovato utile e interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novitanti prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale anche di questo prodotto erano arrivati tanti spoiler sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi cupos conto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale anche dei prodotti e zviz quando sono in offerta su amazon ve li linko sempre sul mio canale telegram offerte ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao e al prossimo video ciao 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 ciao